Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi ho preparato per voi un tag un po' fuori di testa, un po' a caso, come tutto ciò che vedete sempre sul mio canale, ma in questo caso ho maggior ragione, ovvero oggi mi è improvviso Beauty Guru Super Poraccia, cioè più poraccia del solito, e ho preparato per voi il Make Up Book Tag, ovvero una sorta di Get Ready With Me, come se ne sentiste la necessità, fingiamo che sia così, e praticamente io mi truccherò davanti a voi per ottenere questo Make Up Look un po' random e intanto vi racconterò qualcosa su dei libri, ci sono otto domande, forse nove, e insieme affronteremo temi diversi legati, che legano un po' il Make Up che nonostante io sia completamente inetta, però ho una grande passione per il Make Up, è una cosa che tento di nascondere per sembrare più intellettuale, non è vero ragazzi, scherzo, sto molto attenta anche perché sto invecchiando, quindi ormai inizio a vedere anche le cose per le rughe, vabbè, quelle cose lì, come sempre prima di iniziare il video vi faccio qualche premessa, se volete sostenere il mio canale perché quello che porto sul canale vi interessa, vi piace, vi diverte, insomma qualsiasi cosa, mi raccomando ricordatevi di iscrivervi e attivare la campanella qua sotto perché così sapete sempre quando esce un mio video, ricordatevi anche di interagire, commentare, likeare, insomma fatevi sentire, invece se volete aiutarmi ulteriormente potete fare acquisti tramite i miei link di affilazione Amazon che vi metto giù nell'info box e ogni volta che voi acquistate io ricevo una piccola percentuale che mi aiuta a mantenere il canale attivo, detto ciò passiamo subito al video, tra anche forse l'ultima scena in cui mi vedrete truccata perché poi passeremo alla parte no makeup e niente partiamo col tag e il tag lo faremo partire così, in realtà così perché sennò non si vede niente, io senza occhiali non vedo assolutamente una cippa quindi mi vedrete fare tipo così cento volte, abbiate pazienza, non riesco neanche a leggere le domande a una distanza microscopica, vabbè, comunque viva l'essere miope, ho solo la crema idratante e il contorno occhi così finalmente potrete fare gli screenshot di questo video per salvarveli nei momenti bui con la mia faccia struccata o mandarli a tutte le persone che mi odiano così finalmente potrete fare i meme, in ogni caso partiamo dalla prima domanda e mentre i gatti si stanno per ammazzare qua per terra, la prima domanda riguarda il primer e dice un libro che ti ha lasciato un'impressione a lungo termine, più o meno la traduzione a braccio è questa allora partiamo dai prodotti sempre e poi vi racconto del libro io uso due primer che sono questo che è Corefessional di Benefit e quello di Urban Decay Eyeshadow Primer Potion per gli occhi allora intanto sarà difficilissimo tra l'altro fare cose con un po' di senso e poi raccontarvi invece del libro comunque riguardo al libro sicuramente mi viene in mente Circe di Madeleine Miller di cui vi ho parlato già più e più volte tra l'altro mi sono scordata anche di mettervelo nella TBR di aprile, maggio e giugno perché ovviamente tutte le robe che io faccio le faccio a caso e quindi mi sono anche dimenticata di parlarvene di nuovo comunque leggere Circe per me è stata un'esperienza veramente molto molto particolare perché non pensavo che avrei mai amato un libro così tanto e che mi sarebbe rimasto così tanto dentro perché Circe è uno di quei libri che ti ritrovi a ragionarci sopra anche dopo mesi cioè io sono ancora qua che un po' sto male per la storia di Circe che è un libro veramente meraviglioso quindi appena esce uscirà il 18 aprile fatevi un favore e andatevelo a raccattare perfetto guardate fate lo screenshot qua perché ho gli occhi ribaltati se dovete farli vi do anche i momenti in cui farli beh più o meno ci siamo e quindi niente vi direi Circe di nuovo di Madeleine Miller poi in certo punto comparirà il titolo e la copertina di un libro da qualche parte perché o mi trucco o mi muovo insomma passiamo alla prossima domanda che è la numero 2 e parla di Foundation ovvero Fondotinta la domanda chiede scegli il tuo primo libro preferito in una serie allora ok regola del tag non citare né Six of Crows né Harry Potter vediamo quanto duriamo speriamo allora innanzitutto vi faccio vedere il mio foundation il mio fondotinta sto usando da alcuni mesi Bare Mineral Bare Pro che so che non ha grande successo nella community beauty ma io mi ci trovo da dio è super leggero ma coprente ma non troppo cioè non ti fa effetto mascherone tranne quello che andremo a fare in questo momento perché non potendomi vedere bene chissà cosa salterà fuori comunque è il primo libro in una serie che secondo me fa un'impressione molto migliore rispetto a tutti i successivi è Daughter of Smoke and Bone di Laney Taylor perché allora voi sapete perché ve ne parlo sempre più o meno perché io la venero lei come autrice, come scrittrice è pazzesca nel senso che fa delle cose pazzesche cioè scrive meglio di chiunque altro poi ha molto meno successo di tanti altri scrittori molto più famosi di lei senza motivo perché non è giusto però se vi devo dire che nella trilogia della chimera di Praga ovvero di Daughter of Smoke and Bone il primo libro rimane il mio preferito gli altri un po' perché c'è tanta storia d'amore questa questione un po' così mi sono piaciuti meno però ovviamente non fate caso ai pennelli a tutto quello che sto per usare perché sono luridi io non li pulisco mai non me ne frega niente robe di questo genere vabbè ma tanto a voi che ve frega in fondo comunque Daughter of Smoke and Bone per me è diverse spanne sopra gli altri due volumi purtroppo quella serie secondo me ha degli spunti positivissimi soprattutto lo stile eccetera eccetera io amo Karu Karu è proprio uno dei miei personaggi preferiti ever ma risente molto di una difficoltà nel trovare una trama e un ripetersi di alcune dinamiche nei successivi soprattutto credo che abbia un po' anche un problema di prevedibilità io ve lo dico però in ogni caso ve la consiglio come serie perché è molto molto valida se pensiamo anche a quando è uscito perché è veramente una serie un po' datata ma nonostante sia datata è validissima la prossima domanda parla di concealer ovvero di concealer scegli un personaggio del quale ti libereresti facilmente io ho pensato a darvi una risposta che non vi ho già dato comunque prima vi devo far vedere qual è il mio concealer da qualche settimana sto usando Studio Photogenic HD di NYX in realtà mi sta piacendo nel senso che è una bella coprenza ma mi sta facendo venire dei puntini rossi 4 or no nel senso io purtroppo devo usare cose a base naturale non posso usare dei siliconi e robe varie perché tanto finisce male la mia pelle si ricopre di schifo cosa che non è mai successa comunque per intenderci un personaggio del quale vorrei liberarmi cavolo però ve ne ho già parlato anche a lungo e non mi viene un nome proprio un po' sorprendente di cui parlarvi quindi vi parlerò di nuovo di Mehmed della serie di And I Darken e Now I Rise di Kirsten White voi sapete che io amo amo venero quella serie perché per me è pazzesca un historical fantasy però elementi fantasy non è che ce ne siano tante però non so un historical fiction chiamiamola così meravigliosa io credo di non aver amato mai un personaggio così tanto quanto amo l'Ada e tra me e lei c'è qualcosa cioè non so definirlo ma io trovo delle affinità anche se io non sono l'erede al trono della Vallacchia anzi neanche di San Lazzaro di Savena però amo amo un sacco allo stesso tempo però in quella serie c'è l'elemento fastidioso di cui vi ho già parlato in diversi video ma Mehmed è una carogna totale è proprio quello che vuoi spattaccare contro il muro perché se lo merita e niente che dirvi ripeto non posso spoilerare troppo perché poi dopo vi vado a raccontare un po' tutta la trama di And I Darken ma io lo odio io se potessi liberarmene a manate lo farei subito anzi anche perché poi fa litigare i due fratelli li rende un po' proprio vicido insulso infame malefico ma io non vedo l'ora di leggere Bright We Burn che esce a luglio poi decreterà la mia morte definitiva perché cosa fai quando finisce una delle tue serie preferite cosa fai domanda numero 4 che è Powder scegli il tuo ultimo libro preferito in una serie allora prima cosa vi faccio vedere il mio nuovo powder che ho abbandonato quello di Sephora che fa sia da powder che da fondotinta perché non mi ricordo perché in realtà ero da NYX e già che c'ero ho preso anche questo che è Elsa No Filter Finishing Powder è molto carino è molto carino l'effetto ma credo che anche questo sia pieno un po' di schifo e quindi io mi ritrovo la pelle che fa un po' schifo anche in questo caso allora ultimo libro preferito in una serie e non vi posso citare Six of Crows perché sono brava allora in realtà la risposta penso sia abbastanza facile in questo caso perché ve ne ho parlato già nel wrap up di febbraio e vi parlerò di nuovo di Shadow Song di solito è difficile per me trovare un ultimo libro preferito perché di solito nell'ultimo libro fanno i macelli gli autori sembra che non lo so abbiano assunto sostanze strane e non abbiano capito che devono fare un finale decente e quindi finiscono per rovinare tutto vedi un sacco di serie penso per esempio alle Lunar Chronicles il terzo il mio preferito nonostante Scarlet sia in realtà il mio personaggio preferito ma adoro 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 ho riso un sacco leggendo Cress in tanti altri magari è il secondo il mio libro preferito penso a Winner's Kiss penso a vabbè adesso pensare troppo è inutile però in questo caso vi ripeto Shadow Song Shadow Song secondo me è un libro meraviglioso un secondo libro dignitosissimo per diversi motivi innanzitutto proprio il contenuto perché è un contenuto che stacca molto dal primo in alcuni punti ma rimane molto coerente e soprattutto racconta un'emotività molto forte che a me ha colpito molto soprattutto io l'ho amato perché S.J. Jones poteva scrivere il seguito di Wintersong come tutti se lo aspettavano no? cioè lei poteva fare il compitino a casa e portare a casa un ennesimo libro abbastanza di successo invece cosa ha fatto? ha pensato bene di fare la cosa più difficile di tutti cioè battere la strada meno prevedibile e andare su un finale che per me è stato molto emozionante ed è stato bellissimo ma che sicuramente non le ha fatto conquistare tutto l'amore del pubblico perché il pubblico voleva vedere altre cose punti stima infiniti dopo questa scelta e io non vedo l'ora che tutti leggiate Shadow Song e lo direte perché ne sono certa perché è piaciuta a me e poche altre però ho letto nei commenti del wrap up diverse persone che l'hanno vissuto molto come me mi fa un sacco piacere proprio sono felicissima di questa cosa la prossima domanda è Eyebrows ovvero sopracciglia un libro che secondo te tutti dovrebbero leggere allora mi sembra superfluo allora vabbè partiamo dal make up che è la cosa più easy io uso il kit eyebrow di Sephora che costa poco mi dura un sacco ed è ottimo quindi insomma io che sono a beauty guru poraccia così poi uso questo pennellino qua che non credo in realtà serva per il sopracciglia ma io quello da sopracciglia lo odio proprio mi fa fare dei castroni incredibili quindi voto questo anche se da vera make up artist non si dovrebbe fare insomma ma chi se ne frega veniamo invece alla questione madonna io non vedo dallo specchio ci sarà 30 cm da me lo specchio quindi avvicinerò pericolosamente allora un libro che secondo me tutti dovrebbero leggere vorrei non dirvi six of crows ma ovviamente è six of crows cioè un libro che tutti dovrebbero leggere six of crows è così che si fanno i fantasy young adult nel mondo proprio nell'universo quello è come dovete scrivere quei libri però diciamo che se devo proprio pensare a dei libri che vorrei che tutti leggessero e non parliamo di harry potter e di six of crows madonna mi è venuta una sopracciglia che è manco frida sicuramente vi direi i miei libri preferiti quindi vi direi Dostoevsky il mio libro preferito di Dostoevsky sono le notti bianche sono le notti bianche vabbè e poi io amo Camere separate di Tondelli amo La luna e falò di Pavese cioè questi sono tutti i miei libri Lolita di Nabokov e L'occhio di Nabokov sono proprio i miei libri preferiti quindi chiaramente spero che tutti leggano questi perché sono i miei libri preferiti chiaramente non c'entrano niente con lo young adult questi ultimi che vi ho citati e se non si è capito a me piacciono le sopracciglia belle marcate altro che volo di gabbiano ala di gabbiano sparviere qualsiasi altra cosa e già le ho importanti di mio comunque a voi non ve ne frega niente questa roba del make up comunque mi fa ridere questo veramente è il book tag più trash della storia come lo sto facendo ma in fondo cioè voi non avete bisogno di serietà su questo canale comunque quindi vi direi sì i miei libri preferiti che non c'entrano nulla con queste cose perché io sono fermamente convita che comunque è una buona base di letteratura contemporanea e non solo male non faccia mai va bene la prossima domanda invece chiede eyeshadows scegli un libro che sulla cover ha i tuoi colori preferiti io questo ve l'ho già detto nel senso che sapete già che se avete visto il mio recent book tag che i miei colori preferiti sono il nero e il rosso tendenzialmente bordeaux borgogna insomma un bello intenso vinaccia sicuramente il libro che ha tutte queste caratteristiche sia sulla cover e soprattutto che è un libro che amo segnalarvi è the night circus ah però prima vi dovrei far vedere i rossi scusatemi scusatemi a non professionalità allora per questo vi faccio vedere che io non amo troppo i patacconi non mi piace io userò dalla wizardry and witchcraft di storybook cosmetics sorcerer che è questo qui madonna che beauty guru eh però visto che è metallizzato io odio le cose metallizzate lo andrò anche a mattizzare con questo che è di debora vabbè ripeto che immagino quanto siete interessati alla questione make up in ogni caso parlando di night circus che è quello di cui invece vi vorrei parlare nel dettaglio allora night circus secondo me è un libro che molti odiano e molti non sono riusciti ad andare avanti a finire così perché è un libro lento però se un po' avete seguito i miei video avrete capito che a me che il libro sia lentissimo non me ne frego ne merita fava però io ho bisogno assolutamente di vedere un world building incostruito bene nel dettaglio voglio vedere come sia interessante conoscere e svelare ogni singolo elemento di un universo che esiste in un libro e night circus lo fa in maniera eccellente al di là dello stile di scrittura che è meraviglioso Erin Morgenstern è bravissima cioè non c'è nulla da dire dovrebbe scrivere solo più libri ecco quel suo errore però è il classico libro che divide le masse questo perché c'è chi l'ha amato alla follia per me io lo considero la bibbia cioè per me bellissimo ci sono persone che l'hanno detestato non odiato proprio detestato perché non succede mai nulla o almeno questa è la loro opinione per me invece anche solo il capire ogni dinamica e capire l'importanza e la rilevanza di ogni dinamica all'interno del libro e capire come i personaggi si muovono all'interno io dovrei truccarmi in tutto ciò scusatemi è veramente molto interessante e quindi non so fare due cose in una volta non è vero le so fare di solito però non mentre mi trucco e quindi che vedevo di io lo amo lo amo alla follia io dopo tra l'altro vado alle prove quindi mi presenterò come Debbie Harry nel video di Don't leave me hanging vabbè in ogni caso quindi insomma io cioè da fan da grande amante se volete se vi piace uno stile di scrittura eccellente se vi piacciono le storie che si costruiscono piano piano dando dignità ai personaggi dignità alle dinamiche dignità alla storia eccetera e magari avete pazienza leggete Night Circus cioè leggete quello in realtà io se questo video non è a fuoco mi scuso con voi ma non lo riceverò perché è troppo sbattimento o forse ce l'abbiamo forse sono anche uguali uguale è una parola molto ottimista però abbastanza dai dai abbastanza visto che il mio colore preferito è il nero non userò degli ombretti neri perché richiederebbe veramente grande capacità artistica che non ho e non ho mai avuto quindi il nero lo andremo a mettere nell'eyeliner che credo sia la prossima domanda la settima domanda chiede eyeliner un libro oscuro e misterioso allora innanzitutto partiamo dall'eyeliner perché voi dovete sapere adesso quando lo troverò forse magari ve ne parlo anche vabbè voi dovete sapere che io ho un trucco classico che faccio da sempre ovvero la riga sopra gli occhi da quando sono nata cioè non ho mai avuto altri tipi di trucchi quindi per me l'eyeliner è stata una skill da imparare in maniera fondamentale e se mai lo troverò ok e nell'ultimo anno io ho usato tantissimo l'eyeliner di Neve Cosmetics ma ultimamente mi scrive veramente poco l'ultimo coordinato almeno non era granché quindi io ho preso questo di NYX che si chiama Vinyl Liquid Liner che è un nonostante abbia questo pennino che tutto il mondo odia ma io invece so usare alla perfezione e amo e fa schifo non ve lo consiglierei mai perché dopo due ore ve lo ritrovate anche qua cioè non so poi non va via neanche con l'acetone in pratica quindi ottimo pennino pessima la resa niente questo era il momento unhaul e invece visto che la mia carissima Ilenia Zodiac lo consigliava l'ultima volta ho voluto dare una seconda possibilità a NYX e ho preso l'Epic Eyeliner il problema è che la punta è così e voi direte ma è più facile bene se non sapete usare l'altro pennino è più facile se sapete usare l'altro pennino verrà uno schifo ma noi ora ci proveremo e vedremo di non fare danni comunque ah la domanda rimane sempre quella di perché io parlo per ore vabbè la domanda rimane sempre quella di un libro oscuro e misterioso e visto che adesso la mia nuova crociata è far pubblicare J. Christophe in Italia quale migliore occasione per non parlarvi o per riparlarvi di God's Crave ovvero il secondo capitolo della serie di Nevernight allora questa serie già di suo scusatemi però non vedo una cippa quindi potrebbe andare a finire molto male questo book tag comunque come fai a parlare quando ti metti l'eyeliner non puoi fare nessuna altra azione no poi ho un occhio tipo alla luce e uno al buio no però è venuto almeno lì dritto vabbè allora Nevernight è una serie veramente molto oscura misteriosa anche in parte perché succedono cioè è tipo a scatole cinesi scopri una cosa poi scopri che ce n'è una ancora più grande che ti stanno per fregare ma non te ne rendi conto fino al momento in cui ti fregano veramente è la fine di Nevernight è stata dura da digerire da superare veramente vabbè più o meno è venuta anche la riga vedete che non sono più capace di fare le righe uguali da quando uso questa matita che dovrebbe renderlo più facile comunque per finire la questione Nevernight e God's Grave secondo me è una serie molto valida innanzitutto perché il personaggio principale che è Mia Corvere è un personaggio che spacca insomma è proprio costruito benissimo ha una complessità e uno sviluppo all'interno della storia tutta Nevernight tutto God's Grave soprattutto sono permeati di un'oscurità totale sia di temi che concetti che azione bella cruenta ambientazioni molto dark perché comunque anche solo la Red Church che è questa sorta di scuola per assassini che frequenta Mia è dentro una montagna quindi insomma poi ci sono questo ambiente molto vicoletto un mistero dietro l'altro perché non si sa chi sta organizzando e complottando contro chi la domanda numero 8 parla di Mascara ma io ve lo dico non c'ho voglia di metterlo ci metto una vita dice scegli un libro molto lungo allora intanto vi faccio vedere Mascara io mi sono fatta infinocchiare dall'amica di Sephora e ho preso quello di Marc Jacobs l'ultima volta tradendo un po' il mio roller lash di Benefit devo dirvi che quello di Benefit rimane per me la bibbia io non amo i ciglioni pesanti nel senso che tanto a me non vengono non li ho così lunghi ma devo dire che Marc Jacobs è un ottimo ottimo Mascara però cosa faccio ne potrò usare solo uno? no, io faccio di solito una prima passata con questo e poi vado a infoltire ingrossare rendere più evidenti con Marc Jacobs that's it va bene parlando di un libro lungo visto che non ci voglio di mettermi Mascara perché poi vuol dire struccarsi ed è no so che ho detto che non avrei parlato di Harry Potter ma probabilmente visto che sono un po' a corto di argomenti libri lunghi che poi mi piacciono allora vi parlo di uno dei libri più lunghi nella saga di Harry Potter ovvero dell'Ordine della Fenice l'Ordine della Fenice per me rimane nella tripletta fondamentale centrale di Harry Potter dei miei tre libri preferiti che sono Il prigioniero di Azkaban e Gold il calice di fuoco e l'Ordine della Fenice in realtà i miei prefe in ordine sono Prigioniero di Azkaban Ordine della Fenice calice di fuoco perché secondo me rimangono un nucleo centrale che dà una vera svolta tutta la storia i primi due sono molto legati all'infanzia gli ultimi due sono permeati di un senso di negatività distruzione totale io faccio veramente fatica a leggerli ancora no faccio veramente fatica a rileggerli non a leggerli leggerli violetti ma rileggerli è devastante per me l'Ordine della Fenice secondo me segna una rottura e una svolta col passato perché da un lato raccoglie tutta l'eredità di un Harry adolescente che è cresciuto che ha imparato e che si sta definendo perché Harry dal terzo in poi ma soprattutto nel quinto cioè in questo libro Harry sperimenta anche la ribellione sperimenta i sentimenti negativi sperimenta tanto il lights and dark ancora di più che negli altri libri e questo secondo me è molto interessante affascinante in più ci sono delle rotture fortissime perché dopo questo libro Harry praticamente abbandona la sua età infantile del tutto cioè gli ultimi rimasugli e mi dispiace dirlo perché c'è dentro Sirius che è il mio personaggio prefe di Harry Potter staccano col passato e quindi troviamo un Harry molto maturo molto diverso e molto più determinato ma anche autodeterminato cioè lui ha iniziato a definirsi dopo il quinto libro come uomo oltre che come Harry Potter bambino vabbè forse io sto sbagliando tutto non ci ho capito nulla ma avendolo letto così tante volte le prime volte era solo una lettura emotiva no? perché Harry Potter è anche molto emotiva ma rileggendolo nel corso degli anni diventa anche una lettura critica per me molto importata su una struttura e un'architettura generale e per me i tre centrali rimangono i più potenti di tutti L'Ordine alla Fenice è un libro lungo e poi me lo ricordo ancora perché io credo di essere stata in terza media quando usciva perché sono anziana praticamente mi ricordo che quando uscì la Rowling disse che lei l'aveva scritto tutto poi l'aveva buttato nel cestino e l'aveva riscritto in un mese quando uscì ero molto arrabbiata con questo libro perché si vedeva che era stato scritto in fretta forse ero in prima superiore e si vedevano questi difetti questa frettolosità però dall'altro secondo me è un libro molto istintivo e rimane uno dei miei preferiti secondo il mio preferito di tutta la saga vabbè passiamo oltre allora Blush scegli un libro con un romance un po' imbarazzante allora partiamo dal Blush io uso questo di Sephora che è un rosa leggermente pescato si può dire pescato con un tono di pesca ok allora un romance cringy quale romance per me non è cringy io sono veramente molto purtroppo è una cosa che evidenzio sempre me ne rendo conto che tutti mi dite ma no ma ci devi ragionare bene non dare più con le emotività tutti non è vero però una gran parte mi critica queste cose che io evidenzio nelle relazioni secondo me le relazioni è difficile che siano corrette rappresentate bene o comunque che diano una rappresentazione fedele barra ispirazionale potremmo dire così nella realtà quindi cioè oddio vi potrei citare qualsiasi relazione dentro throne of glass che è una relazione sono tutte relazioni no quindi qualsiasi cosa tendenzialmente le relazioni di sarah jmas sono tutte molto imbarazzanti forse la top cioè quella che mi ha dato proprio più fastidio in assoluto è quella di amren in a court of wings and ruin ve ne ho già parlato a lungo se volete vedervi 40 minuti di recensione di a court of wings and ruin ve li link giù nell'info box me ne ho messa calchiamo vabbè perché sono un po' cose a caso buttate lì l'accoppiare per forza sono cose che io non capisco non mi piacciono in più di solito le dinamiche delle relazioni hanno un sistema gerarchico dove la coppia non è paritaria e soprattutto dove uno si appoggia all'altro per prendere decisioni ci sono anche dinamiche proprio negative di abuso che vengono fatte passare come sempre come un qualcosa di positivo quindi vengono romanticizzate e diciamo che non è che è proprio imbarazzante imbarazzante come poteva essere una volta l'insta love così è proprio imbarazzante perché non dovrebbe esistere so che è impopolare questa mia opinione e magari un giorno vi farò un video dove vi elenco tutti i problemi delle relazioni nello young adult ma non lo farò ora la prossima domanda invece è highlighter scegli un libro che illumina la tua giornata un libro che illumina la mia giornata vabbè innanzitutto il mio highlighter è questo di Becca io non lo cambierei mai perché ha effetto catarifrangente praticamente quindi non riesco a capire perché dovrei spostarmi su un altro non trovo il pennello non trovo il pennello comunque un libro che illumina la mia giornata quindi sto pensando a un libro che comunque mi renda felice di averlo letto allora quando penso a cosa potrebbe illuminare la mia giornata penso a tutte quelle cose che mi fanno ridere ok la leggiamo così questa domanda se no non ci arriviamo a fare e sicuramente una cosa che vi cito sempre Geekerella perché secondo me è molto carino e fa sempre ridere poi Simon vs the homens sapiens agenda che nel suo essere anche non troppo divertente però ha dei momenti veramente molto carini e molto esilaranti quindi sicuramente Simon all'altro che vi cito che vi ho citato già in qualche video perché sta per uscire un altro volume scritto da questo trittico di scrittrici fuori di testa che è My Plain Jane anzi che è My Lady Jane che è una storia di una principessa che purtroppo si ritrova a avere a che fare con un principe che si trasforma in un cavallo è una cosa assurda però non ho mai riso tanto per l'assurdità di un libro se non forse con Douglas Adams e qualcosa del genere però ve lo consiglio tantissimo se non l'avete mai letto passiamo alla prossima domanda ora che ho l'effetto catarefrangente la prossima domanda parla di lipstick ovvero i tuoi baci preferiti in un libro il tuo bacio preferito in un libro in realtà allora innanzitutto passiamo al rossetto adesso lo andiamo a cercare da qualche parte ok sempre per il tema della sobrietà questo è il mio rossetto preferito proprio nell'universo che è che è che è High Drama di MAC Cosmetics questo è proprio il tono di Bordeaux che io amo di più nella mia vita è un tono di Bordeaux molto violaceo quindi un bel vinaccio intenso e mi piace un casino sarà difficile poi metterlo e parlarvene comunque ci proviamo perché qua siamo per le sfide più difficili comunque no raga impossibile sembra veramente molto viola in realtà vederlo ora quindi forse non è che stia proprio da Dio con il rosso però vabbè Massimo ce lo togliamo dopo vabbè in ogni caso un bacio preferito io purtroppo ragazzi avrete capito che sono un po' difficile sulle relazioni e fatico ad entrare in questa connessione emotiva dal punto di vista sentimentale con il personaggio chiamiamolo così baci preferiti vi posso raccontare due momenti che secondo me sono stati molto carini come baci sicuramente un bacio che io ho adorato perché secondo me il classico desperate kiss che fa sempre ridere è quello tra Cress e Captain Thorne in Lunar Chronicles perché fa veramente troppo ridere quindi non puoi non amare quel momento in cui si baciano per disperazione sto per morire il mio ultimo bacio dammi sto per morire dammi almeno un bacio e fa veramente riderissimo l'altro che invece a me è piaciuto molto perché contestualizzato anche questo abbastanza esilarante è quello tra Aristotele e Dante in Aristotele e Dante scoprono i segreti dell'universo credo si chiama così in italiano se non è così avete capito tra i due che non vi dirò chi perché se non l'avete letto insomma comunque uno di due fa io non ho mai paura ma in questo momento ne ho ed è un momento molto buffo ma anche carino e molto dolce quindi sì forse questi due vi direi perché io non sono per i baci romantici quelle robe dove tremano le montagne scuattano i pavimenti insomma cose del genere quindi insomma credo che questo sia più o meno tutto nel tag spero che questo tag vi sia piaciuto mi raccomando ragazzi io non sono una beauty guru anzi sono proprio beauty guru paraccia e ho dimostrato dal primo all'ultimo passaggio tutto ciò che voi non dovete fare per truccarvi don't try this at home perché io non sono assolutamente una professionista non sono una beauty guru non sono una makeup artist il mio lavoro è tutt'altro per fortuna a parte truccare me stessa posso fare pochi danni però spero comunque di avervi divertito di aver fatto un video un po' chiacchericcio dove ci prepariamo dove ci prepariamo insieme come se fossimo una community va bene ragazzi io vi ringrazio davvero tantissimo noi ci vediamo al prossimo video ciao